Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma cazzo! Ma cazzo! Non mi puoi entrare così a gamba tesa! Tipo così mi entra, scusi! Mi scusi! Let's go! Mica sono troppo forte per questo Detran Ce lo faccio, ce lo faccio Io non posso ragionare in queste condizioni Proco cazzo il pack! Proco cazzo proco cazzo proco cazzo il cazzo proco cazzo proco cazzo il cazzo Ma che cazzo fa? Il sì mi è arrivato fatto il pazzo qua 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 Il sì mi è arrivato cosa cazzo? Il sì mi è arrivato perché deve fare l'altro Il sì mi è arrivato cosa cazzo? papà papà Giorgio! 900 patetiche si ma su 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 15 15 20 13 15 15 15 15 16 18 16 19 ti pregano dimmi che mi hanno visto boscaiolo mi dia un secondo che devo prendermi un attimo la cavia cos'è che sta facendo questa è la skin di oggi la prego boscaiolo di darmi un secondo è che così mi faccio aiutare roto 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 ma non sto capendo neanche io non mi ammazzare brutal ma non ho ammazzato lei ma se sono io questo qua davanti a te no brutale no no questo è un errore grave non l'ho uscito io comunque eh ma c'è brutale che mi ammazza perché è un pulleon figa ma noi siamo in squadra assieme c'è qualche strana trappola di merda perché ma perché ho il set glicemia con lo schermo davanti andiamo andiamo è fuori gioco vaffanculo let's go ti piace questo brutta merda ti piace questo lo vedi questo questo è uno e questo è due pezzo di merda questo è uno e questo è due stronzo figa se era davanti con la gamba vaffanculo vaffanculo let's go e quando ho fatto così pensavo che avesse detto gol figa aspetta un attimo aspetta un attimo vieni qua che devo domarti vieni qua che devo domarti non lo posso domare non lo posso domare tu muori intanto tu aspetta un attimo c'è un porcello no pia pia aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo te togliti bastardo di merda no tu fermati invece tu vieni qui vieni qui vieni qui ma figa figa ma ti può sembrare no aspetta ma perché devi sempre andare così allora fermati fermati ti domo fermati fermo fermo vieni qua che ti domo vieni qua vieni vieni ma sei stro figlio di puttana figlio di puttana ti domo il cazzo ah Verardi palla di Lorenzo Giorginio Giorginio centrale attenzione allarga per immobile Giorginio di nuovo servito può allargare nuovamente per Verratti grazie mille Fedra grazie mille grazie per il quinto ciao Fedra di nuovo indietro ragazzi siamo al ventiquattresimo del primo tempo qua c'è una un misunderstanding ma Spinazzola riesce a riportare la palla per Acerbi che deve obbligatoriamente tornare indietro a Bonucci torna anche Di Lorenzo per dare cosa fa Tano stia calmo si chiama Snap si chiama Snap e che cazzo ha fatto non ho capito c'è figa schiocato e partito il game che cavolo fa no non mi è chiaro grazie a tutti